Per me, per noi, credo, della delegazione vaticana, penso anche per la delegazione italiana, è stato un incontro molto fortissimo. Abbiamo potuto toccare vari temi e anche alcuni approfondirli in maniera più specifica. Un po' di sempre il centro delle nostre conversazioni riguardano i temi, tra virgolette, italiani, quindi il tema della famiglia e delle provvidenze per la famiglia, riconoscendo quello che il governo ha fatto come l'assegno unico per i figli e altre provvidenze, ma naturalmente c'è sempre spazio, c'è sempre maggiore possibilità di intervenire a favore. Il tema della scuola paritaria, il tema anche del fine vita, il tema del fine vita si è toccato anche se si è accennato, perché soluzioni non ce ne sono, abbiamo constatato come le regioni appunto pensano di venire incontro a questa mancanza di legislazione da parte italiana, però con tutte le problematiche che questo comporta. Però è stato soltanto fatto a dei commenti su questa cosa, senza nessuna soluzione proposta. E poi anche su alcuni temi per quanto riguarda gli economici, per esempio il tema dell'Imo, eccetera. Quindi sono state un po' queste le tematiche.